Gli mancava forse un po' di legna per il caminetto di casa e così ha pensato di tagliare una palizzata comunale con la motosega e portarsela a casa. Sembra una storia incredibile, quasi da film comico, ma in realtà se non ci venisse da ridere ci sarebbe da piangere. È realmente accaduto alcuni giorni fa a Tavernelle, nel comune di Colli al Metauro, dove lungo la Flaminia, in una semicurva, la palizzata che protegge la pista ciclabile, fatta di pesanti tronchi di legno, per via di un incidente stradale è in parte crollata, pochi metri, facilmente sostituibili. Invece un abitante di terre roveresche di passaggio deve aver pensato, sono lì abbandonati, mezzi rotti, quasi quasi li prendo su. Anche se assurdo ed inaccettabile in quanto pur sempre proprietà comunale, diciamo che il pensiero poteva anche venire, ma la cosa assurda è che l'anziano signore ha pensato bene di prendere la motosega e visto che era lì ha tagliato un'altra ventina di metri di palizzata e se le ha portate a casa. Per terra ci sono ancora ben visibili i segni della sua opera di asportazione, monconi di staccionata con i segni dei denti della motosega, truccioli, segatura, tutto a pochi passi dalla statale. Ma la cosa ancora più strabiliante è che non contento, oltre alla prima volta, è tornato su una seconda volta, ma il secondo giro non gli è andato molto bene perché oltre a ciò che restava della sfortunata palizzata ha trovato anche gli agenti della polizia locale. Era in parte questa palizzata stata divelta da un incidente successo le settimane scorse, tant'è che c'è una ditta che sta proprio intervenendo in questi giorni per risistemarle e ci siamo accorti a un certo punto che questa palizzata non c'era più, ma non è che non c'era più quella abbattuta, il tratto di pochi metri abbattuto dall'incidente, non c'era più, pure una trentina di metri. I nostri vigili hanno un attimo indagato, evidentemente avranno chiesto a qualche vicino, a qualcuno che cosa avesse visto e si è risaliti al fatto che un cittadino di terre roveresche, non di Coglia al Metauro, era stato lì in due diverse occasioni, con la motosega aveva proprio tagliato questa palizzata, ma palizzata importante, è nuova oltretutto, non è anche vecchia, per farne legna da ardere, mi viene da ridere ma siamo veramente al paradosso, c'è stato un sequestro, quindi c'è stata una denuncia, è stato recuperato il materiale ma non è più utilizzabile perché l'ho togliato giusto per essere messo dentro la stufa evidentemente, e di conseguenza siamo in questa situazione, adesso lo dico un po' scherzando, ma di fatto è un furto a tutti gli effetti e questa persona rischierà probabilmente anche delle conseguenze perché la denuncia è comunque partita dal punto di vista di questo furto aggravato.